Il segno dello scorpione, una giornata meravigliosa per quanto vi riguarda, una luna splendida nel segno dei pesci, con Marte, Venere. Allora, questo inizio d'anno per voi è incredibilmente romantico, sensuale, passionale, amore decisamente in primo piano, anche in questa giornata, ma diciamo che l'amore sarà il grande protagonista per tutto il mese di gennaio.